per impegnare il Governo con la mozione che abbiamo depositato sulle seguenti questioni prioritarie. È necessario assicurare la partecipazione italiana al massimo livello alla rete ERN. È necessario rivedere registri tumori affinché siano evidenziate le informazioni sui tumori rari. È necessario garantire continuità alla rete di tumori rari coinvolgendo le associazioni di malati e di volontari che operano nel settore. È necessario inserire negli obiettivi di piano il finanziamento degli interventi per i tumori rari. È necessario dare attuazione alle conclusioni cui è prevenuto il gruppo di lavoro istituito dal Ministero della Salute il 14 febbraio 2013, consegnato nel maggio 2015, ed in particolare potenziare la ricerca e facilitare l'accesso ai farmaci. Grazie, onorevole Bini. È iscritto ora a parlare il deputato Roberto Chiuto. Prego, onorevole. Presidente. Grazie, Presidente. Oggi discutiamo di un tema molto delicato, quello contenuto nella mozione dell'onorevole Binetti, perché è un tema che riguarda la salute e quindi la vita dei cittadini e che riguarda non solo la vita dei pazienti, ma anche la vita delle famiglie dei pazienti che, quando si trovano a dover combattere con un tumore, viene completamente stravolta. Ogni anno, lo ricordava qualche collega che è intervenuto, in Italia si diagnosticano circa 250 nuovi tumori e il 20-23%, dipende dagli studi a cui si fa riferimento, sono tumori cosiddetti rari, che poi in realtà rari non sono perché se solo si parametra questo dato al complesso dei tumori diagnosticati ci si rende conto di quanti siano i cittadini che ogni anno si ammalano di tumori appunto cosiddetti rari. Si tratta, lo diceva bene chi è intervenuto prima di me, la collega Binetti innanzitutto, di tumori pediatrici, quindi di tumori che riguardano i bambini di molti tumori ematologici e di 10 famiglie di tumori solidi dell'adulto. In questi casi accade che il paziente rischi di non ricevere una diagnosi appropriata, magari ne riceve due o tre diverse prima che si stabilisca la natura del tumore che ha contratto, e di non ricevere poi neanche una terapia o una prognosi appropriate. Per i pazienti che si ammalano di tumori rari, l'effetto è quello di dar luogo ad una migrazione sanitaria che a volte riguarda anche la loro famiglia e l'effetto per il sistema sanitario è un effetto di aumento dei costi per le prestazioni inappropriate. È evidente l'esperienza che ciascuno di noi ha lo testimonia. Quando cominciano queste migrazioni ci si sposta da un centro all'altro, da un ospedale all'altro, magari ripetendo esami diagnostici che dovrebbero essere utili ad avere una diagnosi definitiva e che poi invece sono spesso ripetuti in cerca della diagnosi definitiva per l'appunto, generando queste diagnosi inappropriate costi ulteriori per il sistema sanitario. E non si tratta di poca cosa perché appunto ogni anno si ammalano di tumori cosiddetti rari 80 mila cittadini e si calcola che siano circa 600 mila i pazienti che oggi devono fronteggiare un tumore raro. Ora, investire nella direzione auspicata dalle emozioni presentate, investire in sanità in quella direzione significa far risparmiare risorse al sistema sanitario. Cioè quando si investe bene in sanità, riducendo lo spazio appunto per le prestazioni inappropriate, alla fine si risparmiano risorse, non se ne spendono di più. E la soluzione per farlo è quella prospettata nella mozione dell'On. Binetti, quella cioè di sviluppare reti dedicate, reti oncologiche dedicate che attualmente sono organizzate su base volontaria per il pregevole e incomiabile contributo che a questa opera danno le società scientifiche o le associazioni. Ora però, è stato evidenziato da chi mi è intervenuto, il nostro Paese si trova davanti ad uno snodo cruciale. L'anno prossimo in Europa saranno definiti questi 21 ERN e si chiede giustamente che il Governo nazionale si impegni in Europa affinché tra questi 21 ERN vengano individuate 12 reti europee che siano specificamente orientate allo studio dei tumori rari. Questo per evitare appunto la migrazione sanitaria che oggi invece registriamo, per favorire l'accesso ai fondi europei che sulle malattie rare l'Europa ha deciso di stanziare, quindi sarebbe un investimento ulteriore per il nostro sistema sanitario, e per ottimizzare l'organizzazione delle attuali reti oncologiche nazionali. Un'altra soluzione è quella di rafforzare la rete nazionale delle malattie rare. La rete nazionale delle malattie rare che è stata istituita in Italia nel 2001 prevedeva già da allora il registro nazionale delle malattie rare e regolamentava l'esenzione da una serie di costi per le patologie inserite in una determinata lista, stabilita dal decreto ministeriale numero 279 del 2001. La lista da allora non è stata più aggiornata. Dopo l'istituzione e la rete nazionale hanno fatto seguito due importanti accordi Stato-Regione, dopo i quali si è purtroppo assistito ad un progressivo e preoccupante rallentamento delle iniziative in favore dei malati considerati rari. Ora, io vorrei anticipare già qui, ma poi lo diremo in fase di dichiarazione di voto, che con ogni probabilità noi voteremo a favore della mozione proposta dall'On. Binetti, alla quale va riconosciuto uno sforzo encomiabile nella sua attività di parlamentare, ma anche di presidente dell'intergruppo sulle malattie rare. Siamo d'accordo con gli impegni proposti nella sua mozione, ma abbiamo la preoccupazione che anche queste rimangano purtroppo soltanto delle parole. Lo si ricordava prima, su questo tema c'è stata una risoluzione della Commissione Affari Sociali, c'è stata un'indagine conoscitiva su questo tema, si sono svolti convegni anche qui alla Camera per sollecitare la discussione sui tumori rari e però, nonostante questo, si è assistito ad un progressivo rallentamento delle iniziative in favore dei malati considerati gravi, né è stato aggiornato il registro delle malattie rare per inserire all'interno di questi tumori rari. Ora, è apprezzabile che ci sia questo sforzo a cui si invita l'Aula, questo sforzo di approfondimento, però noi vorremmo che l'occasione fosse utile anche perché il Governo si assumesse realmente degli impegni e ci dicesse come vuole rapportarsi in Europa rispetto alla definizione degli ERN, ma soprattutto quali iniziative vuole mettere in campo per finanziare e sostenere le reti oncologiche sui tumori rari che già sono esistenti nel nostro Paese e che meritano di un sostegno ulteriore, come voglia interloquire con i sistemi sanitari regionali che non sempre su questo tema hanno degli obiettivi di sanità ben definiti. Nelle scorse settimane, poi vorrei ricordare, è stata incardinata in Commissione Affari Sociali una proposta di legge per promuovere l'istituzione e la disciplina del registro nazionale e dei registri regionali dei tumori. In Italia i registri tumori sono nati su base volontaristica per iniziative spontanee di singoli clinici, epidemiologi e operatori della sanità pubblica che hanno inizialmente portato alla costituzione di nuclei di sorveglianza di dimensioni medio-piccole. L'attività dei registri tumori ha dimostrato in maniera diffusa l'utilità di un sistema di sorveglianza delle patologie oncologiche. Infatti i registri tumori raccolgono, valutano, organizzano e archiviano e lo fanno in modo continuativo e sistematico le informazioni più importanti su tutti i casi di tumore e le relative variazioni territoriali e temporali attraverso misure di incidenza, sopravvivenza per i diversi casi e mortalità, fornendo così un indicatore fondamentale della qualità dei servizi diagnostici, della qualità dei servizi terapeutici nei diversi settori. I registri tumori sono strumenti fondamentali dunque per l'organizzazione e la valutazione dell'efficacia degli interventi, anche di prevenzione in area o per popolazione ad alto rischio. La discussione in ordine alla proposta di legge in tema di registro nazionale dei tumori potrebbe sicuramente rappresentare l'occasione, l'occasione ad hoc per fare una riflessione di più ampio respiro, includendo anche la patologia dei tumori rari. Su questo tema il nostro auspicio è che sì, si possano fare delle discussioni come oggi si fanno, ma il nostro auspicio è soprattutto quello che ci sia un intervento più concreto da parte del Governo e che queste discussioni, come quella che oggi impegna la Camera dei Deputati, possano fornire appunto l'occasione per far impegnare ulteriormente il Governo su un tema sul quale Governo e Regioni credo debbano fare e possono fare molto di più. Grazie. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Chiedo al Governo se intende intervenire ora o si riserva di farlo successivamente. Allora il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta. L'ordine del giorno rega la discussione delle mozioni Franco Bordo ed altri numero 1 1068 e Dorina Bianchi e Garofalo numero 1 1070, concernenti l'annunciato processo di privatizzazione di ferrovie dello Stato italiano S.P.A. La ripartizione dei tempi riservati alla discussione è pubblicata nel calendario. Avverto che sono state altresì presentate le mozioni De Lorenzis ed altri numero 1 1071 e Mazziotti di Celso ed altri numero 1 1072 che vertendo su materia analoga a quella trattata dalle mozioni all'ordine del giorno verranno svolte congiuntamente. I relativi testi sono in distribuzione. Dichiaro aperta la discussione delle linee generali.